Porteremo presto a casa un investitore capace di ridare credibilità ed equilibrio alla nostra società. Un'altra promessa che il popolo amaranto ha rimandato al mittente è quella arrivata da Fabio Gatto, rappresentante della Neos Solution, società consortile che è tornata in possesso del 99% delle quote sociali dell'US Arezzo dopo il passo indietro di Marco Matteoni. Al suo arrivo allo stadio comunale di Arezzo l'auto dell'imprenditore è stata presa calci e pugni dai tifosi presenti sul piazzale. In conferenza stampa poche e vane promesse. La cessione non ha apportato alla società i benefici che avevamo ipotizzato, ha dichiarato Gatti, che ha annunciato di aver dato mandato ad un advisor per individuare un finanziatore capace di risollevare le sorti del cavallino. Nessun dettaglio sulle figure coinvolte nei suoi tempi, tanto che il rappresentante della Neos è stato cacciato a male parole dalla sala stampa. Oggi in città erano presenti i vertici della Lega Pro guidati dal segretario generale Francesco Ghirelli, che ha incontrato i giocatori, i dipendenti dell'US Arezzo e poi il sindaco Alessandro Ghinelli, con l'obiettivo dichiarato di salvare la società scongiurando il rischio sciopero per la partita di domenica contro il Livorno. Da parte sua l'associazione italiana Calciatori avrebbe dato invece indicazione ai giocatori di non scendere in campo senza garanzie economiche.